Ho accettato la candidatura alle regionali per portare all'Emilia Romagna una voce pulita, una voce nuova, la voce di un giovane. Sei solo i punti in cui si articola il mio programma. Famiglie e diritti delle persone, trasparenza della pubblica amministrazione, sanità, lavoro e imprese, ambiente e sviluppo sostenibile, istruzione e diritto allo studio. Se anche tu vuoi una nuova regione, una regione efficiente, una regione giovane, il 28 e il 29 marzo barra il simbolo Italia dei Valori e scrivi Baraldi.